Ciao ragazze, questo è un video veramente velocissimo, però lo volevo fare perché sono troppo eccitata perché praticamente mi è arrivato qualche giorno fa un messaggio te lo faccio leggere e questo messaggio era da parte della NEC di Firenze, la coin di Firenze e che mi avvisava che si sarebbero tenuti il 19 e il 20 maggio dei seminari interattivi di make up allora ho chiamato e mi sono informata e mi hanno detto che praticamente io potevo scegliere tra il 19 o il 20 e mi faccio leggere, pagando 40 euro loro mi facevano fare questo seminario interattivo però questi 40 euro erano redimibili in prodotti quindi alla fine io potrò trasformarli per così dire in prodotti faccio leggere vedete cosa diceva vedete aspetta che ha senso Mecco in Firenze organizza seminari interattivi di make up il 19 e il 20 maggio 40 euro redimibili in prodotti beh poi c'è il numero di telefono se l'avete letto ma comunque è un numero pubblico e quindi è stata una bellissima idea questa appunto sarà un make up mi ha spiegato la ragazza con cui ho parlato mi ha spiegato che sarà un seminario organizzato in questo modo ci sarà un make up artist che truccherà una modella e sì forse sono un po' stolta in questo momento mi sto accorgendo solo adesso dunque boh lasciate stare un make up artist che truccherà una modella e poi noi dovremo riprodurre quel trucco credo sugli altri partecipanti non ve lo so dire con i prodotti che ci daranno loro e poi appunto questi colatero noi li potremo trasformare in prodotti che possiamo acquistare presso la presso la mac presso la mac il rivenditore mac della coin di Firenze quindi sono troppo 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 eccitata all'idea di questo piccolo corso perché sarà comunque di un paio d'ore sarà dalle 11 io l'ho scelto ho scelto il turno dalle 11 di venerdì mattina a luna dall'11 a luna di venerdì mattina comunque sarà molto piccolo però sono contentissima poi magari potrò imparare qualche qualche trucco in più e poi vi farò sapere come è andata ancora deve passare tra più di una settimana quasi due settimane comunque sono troppo contenta non vedo l'ora di farvelo sapere comunque per quelle di Firenze Pisa comunque dintorni informatevi chiamatelo il numero ve lo casomai vi lascio il numero ve lo scrivo sotto ve lo scrivo qua da qualche parte perché magari ci sono ancora posti liberi e potreste benissimo farlo farlo anche voi se vi interessa magari ci si vede là questo è tutto un bacione ciao ciao